Siamo qui con un Beholder e non parlerà, parlerò io per lui perché il Beholder insieme agli Illited, alle bestie distorcenti e agli Orsi Goofy sono quelle poche creature che appartengono fisicamente a Dungeons & Dragons e al suo mondo infatti li vediamo poco negli altri fantasy se non per niente uno dei pochi esempi è Grosso Guaglio a Chinatown, il film degli anni 80 con Kurt Russell lì compare un Beholder Ma che schifo, no, ma cos'è quella roba? No, no, non voglio sapere Chissà se avranno pagato i diritti No, no, non voglio sapere